Ciao, ciao, piacere, piacere, mi cuccio loro sono? Loro sono figli di emigranti italiani in Argentina, di Vazzaro, uno si chiama Carlos e il figlio si chiama Lucas Tigani, allora Carlos comincia a conoscere la Vazzanese, si è presentata ai giocatori, ci dirà qualcosa, mi hanno detto che questo anno se vincite la domenica accendete categoria, il 22 c'è la finale, questa è la maglietta della squadra da noi, consiglio del calcio con la maglietta di Papa Francesco, San Lorenzo, questa l'abbiamo portato a Roma ha fatto la vendizione, c'è una cosa particolare, voi sapete che l'Argentina in America del Sud è stata la Coppa Libertadores dell'America, che lo può giocare con la squadra di Europa, mai l'abbiamo ganato a San Lorenzo, è nato nel 2014, è stato il Papa, guarda caso, questo il mio Papa è vicino, guarda, è il Capitano, è il Capitano, è il Capitano, è il Capitano, il Capitano, è 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 il Capitano, noi abbiamo cantato, buonghi mani, che noi ne ho compagnose, è un lavoro che questa maglietta la aveva di Bazzanese. grazie 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 carlos mette di scema allora dai carlos un saluto a tutti gli emigrati un saluto a tutti gli emigrati abbiamo qui il presidente Lavazzanese che conoscerà Carlos e suo figlio Lucas che sono venuti a onorarci a portarci una maglia della loro squadra in Argentina se vuole dire qualcosa noi siamo onorati di ricevere questo premio perché per noi è un premio anche perché visto che la stessa maglia ha il nostro Papa e la nostra santità siamo più che onorati e speriamo che in questo stato qua possiamo prepararvi questo è l'augurio che noi ci facciamo tutti soprattutto per i 40 anni della Lavazzanese e per il ritorno di una forte delegazione d'Argentina vediamo una ventina questo è importante questo per noi era parte di un paese intermente anche noi perché aspettiamo e per noi è un onore di aver ricevuto la santina la maglietta il caspietto che ha fatto il piacere speriamo di poter fare abbiamo fatto la festa nostra questo anno e abbiamo dato qualche passante semplice che ci per aiutano abbiamo dato l'andare meglio di ricordo noi speriamo di potervi ricevere al meglio con quello che è verità grazie a tutti grazie a tutti